Il Carabinieri ha evidenziato che la maggior parte dei furti che avviene in Valle Camonica è colpa dello svuotacarceri, perché? L'effetto delle porte girevole di cui abbiamo più volte parlato, nel senso che dal momento in cui Monti ha iniziato a combattere l'affollamento delle carceri apprendone le porte e sul nostro territorio si sono riversati centinaia di criminali, professionisti e quindi l'efferatezza dei crimini è evidente e è sotto gli occhi di tutti. In più c'è anche questo senso di impunità, perché le nuove regole che sono state varate da questa folle maggioranza praticamente fa sì che si commette un crimine soprattutto quelli che vengono considerati minori ma che sono di grave allarme sociali come quelle che purtroppo stiamo vivendo oggi in Valle Camonica, non sono più puniti. I crimini come il furto, la truffa, la truffa aggravata non portano più alla galera e quindi ovviamente chi è criminale ed è criminale professionista lo sa, lo sa benissimo e li commette con una maggiore leggerezza d'animo perché sa che in galera non ci finirà più.